Buongiorno, ben ritrovati di nuovo in diretta con UD News TV per una nuova edizione del nostro telegiornale sempre live. Andiamo subito in esterna per presentarvi un'iniziativa che si è la rivitalizzazione di un borgo alla festa della mamma. La presentazione oggi in comune c'è per noi Davide Zanirato. Ben ritrovato Davide. Ben ritrovata te Valentina, si è spiegato perfettamente il senso, gli obiettivi di questa iniziativa Udinarte. Prima edizione si parte da Via Roma che è un quartiere che dopo la recente operazione Magnolia cerca un nuovo slancio e l'Aspic assieme al Comune di Unina, tante associazioni del territorio, è pronta a fare la sua parte con questa prima giornata che si terrà domenica. Anna Degano, presidente dell'Aspic, come mai questa iniziativa? Questa iniziativa è nata per sostenere e valorizzare i quartieri. L'obiettivo è quello poi di trasferire questa iniziativa anche in altri quartieri della città. L'obiettivo profondo e reale e la finalità è quello che i cittadini si rimpossessino in modo positivo e vivano i loro quartieri, si rimpossessino proprio del vissuto e dell'appartenenza al quartiere stesso. Quindi l'idea è quella di valorizzare i luoghi ma anche di far emergere il volontariato, le associazioni, le persone che con gioia possano dire di vivere volentieri nei quartieri stessi. Aspic sostiene la psicologia di comunità, quindi interviene positivamente e concretamente nel sostenere questa iniziativa di Udinarte che mette in azione anche lo sport e l'arte proprio per coinvolgere la popolazione e anche gli esercenti della zona. Attraverso queste attività noi partiamo proprio con la festa della mamma. Quindi inauguriamo Udinarte attraverso la festa della mamma che si trappunto domenica, questa domenica. La mamma perché? Perché abbiamo pensato proprio al tema della mamma come la mamma è quella persona, quella figura che in vero accoglie, comprende, concilia e quindi sa integrare, sa integrare come noi vorremmo che Udinarte riesca a fare. Tante iniziative dunque durante l'arco della giornata con Daniele Casoni che è uno proprio dei residenti del quartiere delle Magnoli e uno tra gli ideatori di questa iniziativa. Andiamo a raccontare anche come si vive attualmente in questa zona dopo anche le operazioni di polizia che hanno un po' risistemato le cose. Sicuramente dopo l'operazione Magnolia è un'ulteriore testimonianza del cambiamento che già c'è in zona e che c'è già stato e che continua ad esserci. Udinarte è nato da un'idea del sottoscritto ma tentando di avere più pareri e più integrazioni possibili in un'ottica in cui chi ci lavora, chi propone e chi ascolta potesse partecipare a questo progetto sostanzialmente. Io devo dire che le risposte delle istituzioni e delle associazioni di Aspic e di Atena sono state eccezionali, state veramente squisite. I volontari che hanno collaborato e tutti affinché dove ci parlasse prima di violenza, spaccio eccetera invece adesso si può parlare anche di bellezza, si può parlare di arte, si può parlare di psicologia, di comunità, si può parlare di sport, si può parlare di lavoro e di creatività. La risposta che vi attendete e anche gli umori che si respirano proprio nel quartiere? Negli ultimi giorni c'è parecchio entusiasmo, è la prima volta che facciamo come è meno di un partito come un volontario questa cosa. Devo ammettere che la risposta del quartiere sembra essere molto più positiva e positiva e collaborante. Ringraziamo dunque i nostri ospiti, poi porteremo anche nel corso delle prossime edizioni al nostro microfono l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani che ci racconterà anche dal punto di vista del comune il supporto proprio a questa iniziativa Udinarte Domenica. Appuntamento nel quartiere delle Magnoli, a te la linea Valentina. Grazie David, domenica per la festa della mamma c'è un'iniziativa in più, quella in centro a Udine. Adesso passiamo alla cronaca con un incidente mortale sul raccordo a 4 di collegamento tra Opicina e le confine di Stato a Fernetti. La tragedia all'alba quando il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del camion e finito fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. Immediato l'allarme sul posto è intervenuta la polizia stradale di Trieste e i sanitari vigili del fuoco per il camionista. Un cittadino croato di 61 anni è stata tentata a una lunga rianimazione ma non c'era nulla da fare. È stato decretato il decesso, disagi al traffico perché il mezzo aveva occupato gran parte della carreggiata. Invece una vicenda ancora da chiarire. Questa mattina è stata convocata una conferenza stampa in Slovenia proprio per delineare meglio questo avvenimento che si è tenuto nei pressi di Fernetti ed è andato in scena proprio ieri perché hanno obbligato con la forza un cittadino sloveno di 79 anni a consegnare loro l'auto nell'area di Mali Nerajec. Lo hanno rinchiuso nel cofano e poi si sono diretti verso l'Italia tentando di entrarvi illegalmente ma rimasti bloccati su una strada secondaria. Sono stati fermati dalla polizia italiana e consegnati ai colleghi sloveni. I protagonisti sarebbero quattro migranti irregolari del Maghreb. La vicenda è riportata dai media di Ljubljana. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma solo gli annunci da parte della stampa slovena. L'azione è iniziata ieri proprio nel paese dove i migranti si sono impossessati del veicolo dell'anziano sorpreso mentre stava lavorando in una vigna. Era giunto il confine italo-sloveno nella tarda serata di ieri. Gli stranieri avrebbero abbandonato l'uomo prima della frontiera, proseguito per strade meno battute, rimanendo però bloccati nella zona del valico di Fernetti. La polizia di frontiera italiana li avrebbe individuati e consegnati alle forze dell'ordine slovene. E adesso parliamo di un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di tre trafficanti ucraini. Una trasferta azzardata da parte dei contrabbandieri da Kiev al Friuli a bordo di due autovetture pericolosamente modificate con 176 kg di bionde. La GDF ha intercettato due vetture tedesche, a bordo complessivamente tre persone che fingevano di essere delle normali coppie e amici in visita ma all'interno dell'auto erano custodite 176 kg di sigarette. Le due auto infatti erano visibilmente ribassate e anche modificate dal punto di vista strutturale per ricavare all'interno più spazio possibile anche in maniera particolarmente pericolosa. I tre ucraini sono stati arrestati per contrabbando aggravato dall'impiego di automezzi modificati e i proprietari tedeschi delle autovetture sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. Il controllo è stato effettuato fra Udine e Tolmezzo poco prima di Pasqua. Questa mattina una scossa di terremoto si è avvertita anche nel Goriziano perché alle 5.14 della mattina la terra ha tremato, magnitudo piuttosto lieve, 3.3 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto ipocentro a 12 km dal capoluogo dell'Isontino. Non si segnalano danni a persone o a cose ma appunto il sisma è stato avvertito. Nel Pordenonese invece violento incendio di un'abitazione ad Azzano Decimo durante la notte. Il rogo ha interessato il tetto in legno di una villetta di due piani. I vigili del fuoco di Pordenone sono accorsi in forze per domare l'incendio. Con la prima partenza di Pordenone e anche i rinforzi da San Vito al Tagliamento. 5 i mezzi e 14 vigili. A loro arrivo il tetto era già completamente avvolto dalle fiamme. Il bagliore era visibile dall'inizio della via. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino a questa mattina. Purtroppo il fuoco ha distrutto totalmente il tetto e l'intera abitazione risulta quindi inagibile. Sul posto è stata richiesta anche un'ambulanza affinché ci fosse un controllo per l'eventuale inalazione di fumo dell'anziana inquilina nella fase iniziale dell'incendio. Parliamo adesso di incidenti. Ce ne sono stati diversi durante la notte, due questa mattina a Reana e a Pagnacco. Fortunatamente non gravi. Nella notte invece tre incidenti. Sono intervenuti i carabinieri. Il primo a Tarvisio in via Principe di Piemonte. Due autovetture si sono scontrate dopo una serpentina. Nessun ferito. Uno però dei coinvolti è stato trovato positivo all'alcol test. Incidente anche a Martignacco. Un'auto è uscita dalla sede stradale. È stato richiesto l'intervento delle carroattrezzi. Il conducente è stato portato in ospedale. Poi ancora a Bicinicco la segnalazione di un incidente stradale in via Palmanova. Via Palmanova Bivio per Gris coinvolte tre autovetture. Uno dei coinvolti ha avvertito i carabinieri. Una delle auto non riusciva più a proseguire il cammino e quindi è stato chiamato il carroattrezzi. Anche qui i carabinieri hanno effettuato i test precursori per l'abuso di alcol e droghe. Due investimenti poi anche di animali che hanno creato disagi ai conducenti e anche danni ai veicoli. A Malborghetto Valbruna per la precisione a Ugovizza l'investimento di un cervo e invece anche un cinghiale a San Vito al Torre tra Nogaredo e San Vito a poche centinaia di metri dall'abitato. Anche qui c'è stato l'intervento dei carabinieri. Rintracciata poi una ragazza ieri mattina a Udine in Viale delle Ferriere. Era stata denunciata la sua scomparsa dai genitori da Maniaco. Nel pomeriggio è stata rintracciata a Udine con alcuni compagni di scuola. Invece a Manzano all'interno dell'ufficio postale una persona cercava di essere servita con esercizio arbitrario delle proprie ragioni e si rifiutava di uscire dall'ufficio postale nonostante l'orario di chiusura fosse ormai giunto. Anche qui è stato necessario chiamare i carabinieri per ricondurlo alla ragione. Adesso parliamo del giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi che si tiene come ogni anno il 9 di maggio, il giorno del ritrovamento nel 1978 del corpo di Aldo Moro. Una commemorazione che si sta tenendo proprio in questi minuti alla Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente della Camera Roberto Fico e del Senato Maria Elisabetta Casellati e nell'aula i familiari delle vittime di attentati e stragi della storia del terrorismo in Italia hanno ricevuto diversi premi e targhe commemorative. Qui intanto stiamo vedendo live la diretta dal senato fra questi anche i familiari dei friulani Cristian Rossi e Marco Tondat scomparsi durante la strage di Dacca quando un gruppo terroristico il primo luglio del 2016 massacrò 22 persone tra cui nove italiani e i due friulani anche qui siamo alla fase della celebrazione della memoria delle vittime del terrorismo a Roma in diretta dalla Camera vedete al centro proprio il Presidente Mattarella con vicino Roberto Fico e la Presidente del Senato Casellati sugli scranni tutti i familiari delle vittime del terrorismo in Italia e nel mondo. Adesso torniamo a parlare di occupazione di lavoro questa mattina siamo andati pochi minuti fa a dire il vero all'interno dell'istituto Ires di Udine dove si tiene un progetto dedicato al welfare aziendale è stato il momento per fare il punto sulle iniziative dedicate all'occupazione e alla conciliazione lavoro e famiglia da parte della Regione insieme all'assessore Alessia Rosolene. La Regione su questo tema interviene già dal 2008 è intervenuta tra il 2008 e il 2010 con progetti che poi sono proseguiti con questo progetto nuovo sulla responsabilità sociale d'impresa finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Non lo facciamo solo attraverso il Fondo Sociale Europeo ma anche con interventi diretti da parte dell'amministrazione regionale per aiutare le imprese a presentare il loro bilancio sociale e a intersecare tutti gli aspetti che riguardano il benessere all'interno dell'azienda. Da ricordo come ultimo dato la norma che abbiamo presentato in finanziaria e che a breve avrà anche il suo regolamento per ricevere i contributi per la contrattazione di secondo livello con interventi di deduzione IRAP per tutti i soggetti che si occupano di welfare aziendale. Welfare aziendale significa aprire le aziende a quelli che sono gli interessi della società, significa dare risposte importanti alla conciliazione nella vita delle donne nei confronti delle quali peraltro e questo dimostra che gli interventi devono essere assolutamente complessivi nei confronti delle quali ad esempio abbiamo stabilizzato gli incentivi per le assunzioni delle giovani mamme. È un tema, uno dei tanti temi che riguardano la correttezza del lavoro all'interno delle aziende, che è fatto di tanti aspetti e questo è uno degli aspetti sui quali interveniamo. Il Friuli Venezia Giulia però non è più un'isola felice, così dice la CISL che pone l'attenzione nei confronti di quelli che sono i segnali di una nuova emergente povertà. Il primo segnale è quello del reddito perché c'è forte preoccupazione da questo punto di vista, le fasce di reddito risultanti dalle statistiche del 730 dei CAF CISL registrano la complessiva immobilità registrata negli ultimi tre anni e dall'altro il costante aumento delle persone con reddito fino a 10.000 euro in due anni aumentate del 15%. Inoltre, oltre ai posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni, che sono 8.000 in Friuli Venezia Giulia, c'è un tipo di lavoro sempre più precario, improntato alla flessibilità e al part-time, spesso involontario, soprattutto per quanto riguarda i giovani e le donne. Basti pensare al dato riguardante il solo lavoro in somministrazione che in regione è il 3,15% del mercato del lavoro, mentre in Italia si ferma questo dato al 2%. Inoltre è sempre più evidente l'emergenza abitativa, risvolto drammatico della morosità, quasi mille le sentenze di esecuzione emesse nel 2017, riguardo ai dati che arrivano dal Ministro degli interni per il 90% imputabili a morosità. Parliamo adesso di una scoperta dell'Istituto per i tumori delle Cro di Aviano, una scoperta che riguarda un sistema per bloccare la recidiva del tumore all'ovaio, nella fattispecie i tumori epiteliali dell'ovaio. Una ricerca condotta da Maura Sonego e Elenia Pellarin, svolta nell'ambito dell'attività del laboratorio di oncologia molecolare del Cro di Aviano. La ricerca è stata pubblicata dalla rivista Science Advances. Siamo convinti che solo studiando a fondo i meccanismi molecolari che consentono alle cellule tumorali di sopravvivere alla chemioterapia, si potranno identificare nuovi target e nuove terapie, dice Baldassarre che appunto dirige il laboratorio di oncologia del Cro di Aviano. E riguardo alla sanità abbiamo anche ascoltato questa mattina gli infermieri che a breve saranno in festa proprio per l'evento dedicato alla loro professione, la giornata internazionale dell'infermiere che domani, oggi e domani si svolgerà al Città Fiera. Una preview rispetto alla data nazionale che è quella del 12 maggio che l'Ordine degli Infermieri ha deciso di celebrare con un pomeriggio di eventi per avvicinare l'universo della loro professione alla comunità, ai cittadini, a tutti coloro che incontreranno o hanno già incontrato un infermiere nella loro vita. Vediamo. Abbiamo scelto di promuovere un'attività diversa rispetto al solido perché in genere in passato abbiamo sempre trattato temi di natura molto professionale, di natura etica, di natura molto profonda anche nei confronti del cittadino, nei confronti delle istituzioni. Quest'anno invece abbiamo deciso, visto tutti questi momenti così anche difficili che vive la professione, sia dal punto di vista quotidiano con le difficoltà dal punto di vista operativo, ma con le difficoltà proprio professionali che tutti i giorni l'infermiere vive a 360 gradi dal punto di vista ospedaliero e anche territoriale, l'aspetto dell'emergenza urgenza, per cui siamo sempre in costante difficoltà e siamo anche come professione veramente tenuti sempre sotto occhio dalle istituzioni e dalla cittadinanza. Avete cercato un po' di leggerezza? Sì, abbiamo cercato un po' di leggerezza ma proprio cercando di avvicinare anche l'attenzione del cittadino per far capire loro che noi ci siamo, che noi siamo vicini alle loro esigenze. Abbiamo deciso poi tra l'altro di avvicinare anche alla professione questa cabarettista, Catine, che conoscete tutti voi insomma in Florio Venezia Giulia, tra l'altro se noterete le nostre locandine è una figura veramente che rappresenta molto molto bene la professione perché estrema pulizia, estrema semplicità, veramente con un'immagine molto curata che è proprio quella che vogliamo veramente rappresentare come espressione della nostra professione. Abbiamo organizzato questa giornata domani pomeriggio, dove si alterneranno oltre che dei complessi musicali che suoneranno delle musiche particolari un po' a tema, ma soprattutto quello che ci interessa anche passare come messaggio è che oltre allo spettacolo di Catine, molto importante, molto dedicato veramente alla nostra professione. Noi effettueremo delle letture mirate anche del nuovo codice deontologico appena emanato dalla Federazione Nazionale il 12 aprile del 2019, dove effettueremo anche dei commenti tecnici, quindi di spiegazione sia alla cittadinanza che in secondo luogo diventa anche come organo di tutela e di rappresentanza della professione. Andiamo a sentire invece le ultime novità in casa Udinese con la squadra che oggi pomeriggio si allenerà. Abbiamo in diretta Jacopo Romeo. Buongiorno Jacopo. Buongiorno, buongiorno a te Valentina. Ben trovata qui in diretta dalla Dacia Arena Udinese che scenderà in campo questo pomeriggio a partire dalle ore 15. Naturalmente vi mostreremo l'allenamento in diretta, allenamento che per esempio nella giornata di ieri ci aveva dato due buone notizie. La prima, ottima, perché William McCong è pienamente ristabilito l'infortunio che aveva accusato contro il Sassuolo e già ieri ha svolto tutta la seduta in gruppo. Dunque, forse non ci sarà, capiremo se già dal primo minuto, ma quella sarà una valutazione tecnica che spetterà come sempre a Mr. Igor Tudor che finalmente riavrà tutte le sue carte a disposizione in difesa perché rientra Samir dalla squalifica e Noitink è rientrato da titolare contro l'Inter ed ha fatto benissimo. Capitolo Fofana invece perché ieri si è allenato ancora una volta, a parte l'allenamento individuale ma piuttosto intenso. La speranza, l'obiettivo è quello di recuperarlo per l'ultima gara casalinga, quella da Serena contro il Sassuolo. Cercheremo poi di capire anche se ci saranno altre indicazioni all'allenamento di questo pomeriggio per capire se Seco lavorerà ancora a parte e parallelamente ai compagni e soprattutto perché ci aspettiamo di rivedere regolarmente in gruppo per tutta la seduta anche oggi William McCong. Poi è chiaro che ci sono ancora due o tre dubbi di formazione visto che finalmente c'è un po' più di abbondanza di scelte per Tudor e magari già da oggi si inizierà ad entrare più nel tattico della seduta verso la partita di Frosinone. Frosinone sì già ha retrocesso ma che vuole fare comunque bella figura di fronte al proprio pubblico anche perché quest'anno gli ha regalato soltanto una vittoria interna contro il Parma e ci auguriamo che resti soltanto una anche domenica sera. In otto che invece gara con la SPAL prezzi ultra popolari che ci saranno qui alla Dacia Arena in modo tale da avere ancora una volta come già tante volte è capitato quest'anno lo stadio pieno e per spingere in quella gara è terminante la squadra verso l'aritmetica salvezza. Ora il basket dopo l'eliminazione dei playoff il GM della GSA Davide Michali ci ha fatto il punto in vista della prossima annata prendendo tempo sulla scelta del nuovo coach che sarà la pietra angolare del progetto anche per la conseguente scelta del nuovo roster. Vediamo. Martello è stato preso per traghettare la squadra fino a fine anno ha fatto il suo. Ha fatto il suo l'ha fatto con dignità professionalità con senso di appartenenza con spirito di sacrificio adesso però bisogna valutare la società deve fare la valutazione con calma cioè la società presa io tanto per decidere le nostre responsabilità e capire che taglio dare la nuova annata. Ecco capitolo giocatori tu hai detto a quelli che hanno il contratto? Sì penso sia corretto l'abbiamo sempre fatto al di là che ci piace metterci del nostro però penso sia corretto prima di fare il pellegrino cioè prima bisogna prendere un allenatore io non posso prendere Perfetto ok 5 attaccanti e uno che gioca con 4 4 1 1 capito? Su Nicolic mi sembra che si è già sbilanciato hai detto che vorresti costruire però vedi ormai i giocatori sono talmente pilotati anche dai loro manager o sono comunque e quando tu parli con il ragazzo che abbiamo valorizzato noi il ragazzo di casa ormai è uno dei nostri bravo ragazzo che aveva avuto già un'offerta importante un'offerta importante che abbiamo tenuto sotto traccia che abbiamo tenuto qua lui dove andare alla Virtus a un mese alla fine del campionato l'abbiamo tenuto qua alla Virtus dove andare al Poggi Bonsi e lui è rimasto qua ha fatto i pronti però quando gli dici buono allora ok avevamo già imbastito una riconferma ti dicono fammi sapere chi è prima tuo allenatore è nella logica dei fatti correttissimo per l'Avi di chimica in un certo momento magari in un attore che non ci va in un'altra parte quindi vuol dire adesso tutto è conseguenziale la scelta che faremo ci vediamo il presto in questa settimana prossima chiameremo Martello valuteremo sentiremo anche lui e poi decideremo come ripartire chiaro che la delusione è forte al di là di tutte le attività che ci sono queste allora le parole del GM Davide Michalic delusione forte ma bisogna reagire e costruire al meglio la prossima stagione andiamo a vedere anche che cosa è successo con le news dell'Ansa la Cina ha rotto l'accordo e pagherà così Trump a poche ore dalla ripresa delle trattative commerciali tra Washington e Pechino non preoccupatevi tutto si risolverà sicura poi il presidente statunitense ma da domani via i nuovi dazi senza un'intesa le borse di Tokyo e Shanghai hanno aperto in calo stamani inflazione cinese al più 2,5% ad aprile il governatore della Florida ha firmato un provvedimento che autorizzerà un numero maggiore di insegnanti a portare armi nelle scuole i professori potranno entrare con le pistole in classe se previsto dai loro distretti dopo un corso di addestramento ed una valutazione psichiatrica il principe Harry e la consorte Meghan hanno presentato al mondo e alla regina nel castello di Windsor il primo genito settimo nella linea di successione al trono svelato anche il nome Archie Harrison una scelta che ha spiazzato i bookmakers è un sogno ha commentato la neomamma e adesso prima di salutarci un'occhiata a quella che è la situazione del tempo non certo favorevole sulla nostra regione nemmeno nei prossimi giorni sentiamo le previsioni dell'Osmer Arpa noi ci fermiamo qui con questa edizione ritorno alla diretta alle ore 15 a più tardi buona visione su Diniz TV buongiorno ben ritrovati e poche speranze per il sole saranno solo delle fugaci apparizioni nei prossimi giorni abbiamo in questo momento ancora un fronte abbastanza ammarcato che tutto sommato appunto sta portando ancora delle piogge più abbondanti sulla pianura centro orientale verso la Slovenia le piogge invece sono più attenuate sono già attestate verso ovest sul Pordenonese e anche sull'Alta Carnia questo fronte se ne va via adesso nelle prossime ore resta ancora però un po' di umidità nei bassi strassi per cui avremo probabilmente ancora un po' di nuvolosità soprattutto in mattinata pomeriggio direi che possiamo aspettarsi qualche schiarita però in un contesto ancora abbastanza umido quindi insomma non è che arrivi il sole splendente le temperature massime saranno intorno ai 16 gradi nelle ore centrali della giornata domani è una giornata moderatamente tranquilla ma rimane ancora umidità nei bassi strassi non ci sono fronti domani perturbazioni su di noi resta però variabilità potrebbe esserci qualche locale pioggia qualche locale rovescio soprattutto nel primo pomeriggio a carattere così sparso sulla zona dell'Alta Pianura delle Prealpi un po' meglio sulla costa dovremmo avere qualche schiarita in più il tempo purtroppo tende a peggiorare di nuovo nel fine settimana avremo in tendenza con le proiezioni che si vedono adesso di nuovo un fine settimana di tempo piuttosto grigio e di nuovo direi aumento della nuvolosità nel corso della giornata di sabato già piogge nel pomeriggio sera di sabato e piogge probabilmente anche domenica mattina soprattutto un po' come è successo nelle ultime due domeniche è proprio una situazione similare con una depressione che si attarda sul Friuli tornerà la neve di nuovo in montagna domenica sabato e domenica intorno ai 1600 metri quindi a quote un po' più alte rispetto agli ultimi episodi però tornerà anche a soffiare la bora domenica di nuovo abbastanza sostenuta sulla costa quindi un maggio decisamente perturbato